Resto al sud dell'incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate dai giovani nelle regioni del Mezzogiorno. Per spiegare che cosa è, a chi è rivolta e che cosa si può fare, ma anche e soprattutto per riflettere sulle motivazioni di fondo per un giovane del nostro territorio di restare nella propria terra, il progetto Policoro della diocesi di Oppido Palmi con Dompino De Masi ha lanciato l'idea di un incontro per spiegare effettivamente l'idea. Il progetto Policoro vuole essere la risposta concreta della Chiesa alla disoccupazione giovanile. Non è un sostegno economico alle aziende, ma orientamento e formazioni mirati. La CEI, ossia la Conferenza Episcopale Italiana, grazie all'8x1000 e una filiera collaudata da 23 anni, aiuta i giovani in questo campo, ossia a ritrovare e ridare speranza. Sono poi associazioni, banche e altri attori a dare gambe alle loro idee imprenditoriali. Il progetto Policoro, in merito di una felice intuizione di Don Mario Perti, direttore dell'Ufficio per i Problemi Sociali, avviato negli anni 90. L'esigenza è quella di stare nella storia con amore per offrire prospettive di futuro ai giovani, soprattutto nel sud Italia. Da 16 diocesi aderenti nel 1996 si è passati alle 141 nel 2018 per un totale di 860 animatori e animatrici di comunità. Si stima che in questi 23 anni da quando è nato il progetto, con il supporto motivazionale e formativa e l'accompagnamento della definizione alla realizzazione dell'idea d'impresa da parte dei centri servizi diocesani del progetto Policoro, siano nate circa 700 piccole e medie imprese denominate gesti concreti. Nella diocesi di Oppido Palmi il progetto è stato presente sin dalla nascita a livello nazionale e a oggi sono nati una ventina di gesti concreti, ossia di imprese, di cui la stragrande maggioranza è ancora attiva. Animatore dell'iniziativa è Don Pino De Masi nella qualità di tutor del progetto Policoro e di vicario episcopale per la famiglia e i problemi sociali.